salve a tutti e ben ritrovati dal vostro jo oggi un video veramente veramente breve perché oggi mi faccio vedere addirittura in cam voglio parlarvi di una nuova funzione che sarà presente all'interno del mio canale youtube ovvero gli abbonamenti ebbene sì finalmente avendo deciso comunque di sfruttare appieno la mia partnership sul sito di youtube dato che mi muovo principalmente sia su youtube che su twitch ho deciso per l'appunto di dare la possibilità anche a tutti coloro che non riescono per motivi lavorativi o per impegni personali non riescono a seguirmi sul sito viola do la possibilità di potermi aiutare tra virgolette tramite gli abbonamenti di youtube come potete vedere appunto qui accanto a me vi ho preparato tutta la scheda riservata con quelli che saranno i vari livelli degli abbonamenti disponibili fino a questo momento anche perché youtube una volta che mi permetterà di crescere mi consentirà di sbloccare degli altri livelli e delle altre ricompense solo per voi oggi ci tenevo a parlarvi di questi primi quattro livelli di abbonamento ovvero il bronzo il silver il gold e il platino che li ho ribattezzati in questa maniera molto semplice proprio per evitare una confusione e per evitare anche una propaganda magari fatta in maniera erronea proprio per spiegarvi effettivamente e voglio spiegarvelo io stesso come sono combinati questi abbonamenti il più basso che ho deciso di inserire è di appena 99 centesimi quindi chiunque può effettivamente sostenermi con un piccolo contributo mensile di anche un euro quindi 99 centesimi e questo diciamo è il livello più basso ovvero il livello bronzo che consentirà a tutti quelli che si abboneranno al canale ovviamente di sbloccare i badge della fedeltà un pochettino come funziona su twitch delle emoticon che ho messo a disposizione da poter utilizzare all'interno dei commenti dei miei video e anche probabilmente nei commenti di altri canali ma questo non lo so e poi ovviamente potrete partecipare a dei sondaggi esclusivi che verranno effettuati solo ed esclusivamente su youtube mentre invece il secondo livello ovvero il livello silver in questo caso di 3,99 euro è la stessa identica cosa dell'abbonamento twitch dato che comunque su twitch gli abbonamenti funzionano esattamente con questa cifra chiunque si abbonerà allo stesso livello 2 su youtube anziché su twitch perché magari mi segue di più su youtube e quindi trova il mio lavoro di youtube più soddisfacente rispetto alle live può tranquillamente abbonarsi e anche essere inserito all'interno del canale sub dedicato sul server discord che trovate ovviamente sotto in descrizione inoltre sbloccherete anche degli altri vantaggi come per esempio l'accesso ai video in anteprima che caricherò sul canale e che quindi voi potrete vedere prima di tutti ringraziamenti che verranno messi successivamente o alla fine delle live o alla fine dei video quando ovviamente si raggiungerà un numero di abbonati e poi aggiornamenti costanti su progetti futuri e su quello che effettivamente farò sia su youtube o per chi mi segue e per chi mi vuole seguire anche sul canale di twitch il livello 3 invece il livello che rappresenta appunto il livello gold possiede giustamente tutti i vantaggi della diciamo della tier precedente in più si avrà la priorità di poter giocare insieme a me quando si effettueranno dei multiplayer come per esempio in questo momento stiamo affrontando overwatch e comunque stiamo giocando ad overwatch su twitch ma qualora dovessi fare anche delle live su youtube o in multi streaming quindi sia su youtube che anche su twitch quindi entrambe le piattaforme potrete tranquillamente gioinare con me e parlare e chiacchierare con me in esclusiva e inoltre avrete anche la possibilità di potermi seguire sui social e far sì che anche io vi possa seguire sui social mentre invece il livello 4 livello platino che è praticamente un livello che è messo lì giusto per fare un po di comparsa e rendere l'immagine un po più ordinata permette ovviamente di ottenere tutti i vantaggi precedenti e in più una cosa molto molto importante avrete la possibilità di richiedere l'amicizia privatamente con me sia su discord sia su telegram e poter chiacchierare con me come e quando lo desiderate per qualsiasi dubbio per qualsiasi chiedimento per qualsiasi cosa anche una semplice partitella privata perché no tra noi due o chi quanti saremo proprio per giocare insieme e creare diciamo un legame un po più intimo con chi effettivamente lo vuole fare sostenendo il mio lavoro detto questo non ho nient'altro da dire infatti io vi ringrazio al solito per aver visto il video spero di non essere da solo come la host che sicuramente avrete riconosciuto o i più fedeli avranno sicuramente riconosciuto in sottofondo io vi aspetto ovviamente qui sul mio canale youtube qualora vogliate supportarmi sul canale youtube vi aspetto su twitch praticamente tutte le sere a partire dalle ore 21 con giochi che facciamo multiplayer oppure giochi in singolo che condividiamo tra di noi non mi resta che ovviamente ringraziarvi al solito per il supporto e anche per la visualizzazione di questo video io come sempre vi aspetterò qualora ovviamente vogliate venire scrivete pure sotto nei commenti magari cosa ne pensate o cosa volete implementare all'interno di queste ricompense che magari possa invogliarvi a partecipare al programma di abbonamenti youtube e detto ciò noi ci organizzeremo per fare anche anzi per iniziare a fare anche le live qui su youtube quindi non faremo più live solo su twitch ma faremo entrambe le piattaforme oppure giorni sempre fissati per fare un po da una parte e un po dall'altra quindi ditemi anche voi cosa ne pensate di tutto ciò io al solito vi ringrazio vi aspetto numerosi sia su discord che sul canale youtube e twitch vi saluto e vi aspetto alla prossima bye bye